Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Gigi D'Alessio è stato paparazzato con la bellissima e giovanissima Mora, tra i due è scattato il bacio che non lascia dubbi, è amore Gigi D'Alessio è uno dei nomi più grandi della musica italiana, uno dei primi e pochi ad essere riuscito a fondere la musica tradizionale napoletana con sonorità più pop, riuscendo ad ottenere un successo strepitoso ed ilagante nel corso degli oltre 30 anni di carriera Ha pubblicato 27 album e si è esibito sui palcoscenici più importanti, riscuotendo un discreto successo anche all'estero La vita amorosa di Gigi D'Alessio è stata altrettanto movimentata e ricca di avvenimenti, sposatosi per la prima volta con Carmela Barbato, la coppia ha avuto tre figli nel corso dei vent'anni di relazione, terminata infine nel 2014 Il cantante si è quindi legato alla collega Anna Tattangelo, dalla quale ha avuto un altro figlio, ora è sposato per la terza volta con Denise Esposito e i due hanno avuto il piccolo Francesco quasi due anni fa Proprio per via della recente nascita i fan sono rimasti confusi quando una certa foto ha iniziato a circolare sul web, un'immagine che ritrae proprio Gigi D'Alessio abbracciato ad un'altra donna mentre le dà un bacio Chi è questa terza incomoda, e perché Gigi D'Alessio si mostra candidamente in sua compagnia? Il fatto che la ragazza della foto sia chiaramente molto più giovane di Gigi non è un indicatore di nulla, in quanto la stessa Denise Esposito a 30 anni, 26 in meno al cantante partinopeo Pare che qualcosa bolla in pentola, e proprio ora che ci avviciniamo al secondo compleanno del piccolo Francesco L'altra donna della foto, di chi si tratta? Solo se si conosce bene Gigi D'Alessio e si è particolarmente attenti alla fotografia si riesce a risolvere l'enigma Difatti non tutti possono dirsi così versati in Gigi D'Alessiologia, e di conseguenza non sono in grado di decifrare quanto stia succedendo I veri fan del cantante hanno subito capito che la donna nella foto non può essere altri che il vero amore di Gigi Si chiama Ilaria, ha 31 anni ed è laureata in scienze politiche. La cosa importante, però, è che si tratta della figlia di Gigi, secondo genita nata dal primo matrimonio fra il cantante Carmela Barbato Da quell'Unione nacquero Claudio nel 1987, Ilaria nel 1992 e Luca nel 2003, quest'ultimo ha seguito le orme del padre ed è diventato cantante con lo pseudonimo di LDA Ilaria è già comparsa sui social di papà Gigi, notabilmente in occasione della sua già citata laurea in scienze politiche, ed è l'unica figlia femmina del cantante Per questo motivo non possiamo che reputare Ilaria l'amore più grande per Gigi, ed il loro rapporto uno molto speciale Dunque quando si sente parlare di bacio di amore puro o trasporto fra i due non ci sono affatto sfumature romantiche, ma solo affettuose, come dovrebbe essere fra ogni padre e figlia Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video